E' ricomparse in aula un po' abbattuta, ma con lo sguardo fiducioso Lucia Bartolomeo, l'infermiera di Taurisano accusata e già condannata all'ergastolo per l'omicidio del marito, Ettore Attanasio. I fatti risalgono al 30 maggio del 2006. Dopo l'annullamento della condanna deciso dai giudici della prima sezione della Cassazione, si è riaperto nell'escorsore il processo davanti alla sezione distaccata di Taranto della Corte d'Assise d'Appello di Lecce, preseduta dal giudice Rossella Sinisi. Come suggerito dagli ermellini, si terrà il prossimo 30 maggio il confronto in aula tra i periti della Corte d'Assise e i consulenti dell'accusa e della difesa. Ciò che bisogna accertare è se l'eroina che la Bartolomeo somministrò alla vittima ne abbia causato il decesso. Gli ermellini, infatti, su ricorso dei difensori Pasquale Corleto e Silvio Caro, li rinviarono a Taranto suggerendo la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine dell'accertamento del nesso eziologico tra l'acclarata condotta dell'imputata e la morte di Attanasio. Secondo l'ipotesi accusatoria, accolta dai giudici d'Appello che confermarono la condanna al carcere a vita dell'imputata, l'infermiera avrebbe determinato la morte del marito tramite un'iniezione letale di eroina, tesi che troverebbe conferma nella ricostruzione dei periti nominati dal tribunale in un SMS, inviato dalla stessa Bartolomeo al cellulare dell'amante Biagio Martella, in cui la donna dava ormai per certa e vicina la morte del marito. Ma il movente della relazione extraconiugale della conseguente perdita dell'affidamento della figlia, in caso di separazione, è stato sempre considerato insufficiente dai legali della donna e non ha convinto evidentemente neanche i giudici della Corte di Cassazione. Il preannunzio della morte del coniuge, scrissero gli ermellini, perde la valenza indiziata se collocato nel contesto delle precedenti menzogne sulla malattia di Attanasio e della prospettiva, caldeggiata dalla Bartolomeo, del ricovero del consorte in ospedale. Eventualità che avrebbe rappresentato un ostacolo a realizzare il presunto piano di morte, pertanto contrastante con la tesi dell'accusa. Per i giudici della Suprema Corte bisogna accertare la patologia di cui soffriva la vittima e quindi l'incidenza della somministrazione di eroina eventualmente in dose non letale sulle sue condizioni di salute. Si ricomincia insomma. Prossima udienza il 30 maggio.